in modo che anche un più basso pubblico di... Massimo, siamo pronti? Sì. Che è questa? Mi servirà solo questo? Sì. Così, così usciamo. Ok. Per l'arrivo da un po'... ...i bambini perché... ...e a noi non si sente felici vicino a... ...a un po' di siam... ...perché a un certo punto la seconda cura era permessa solo dei bambini. Sì.